E' una partita che temo molto, soprattutto visto il loro momento, visto la nostra ultima vittoria, e considerato che loro dopo la partita con il Trabzon, 25-2, hanno perso tre partite consecutivi, quindi non vogliamo cadere nella stessa trappola. Perciò, perciò, abbiamo avuto le nostre performance e continuiamo a full force. L'obiettivo è fare sempre il massimo, l'obiettivo è quello di non lasciare nulla per strada, l'obiettivo è confrontarsi con gli avversari. E se guardo appunto le prime posizioni vedo che c'è Ultrarconia che è sempre una squadra molto ostica. E c'è Sciari che c'è una media punti e differenze di straordinaria. C'è Fenerbahce, c'è Becicca, c'è Galatasaray. Credo che il campionato questa anno sia molto cresciuto in qualità rispetto all'anno scorso, quindi noi obiettivi sono su noi stessi. La nostra prensa è sempre la nostra perciò che noi abbiamo abbiamo fatto il nostro fornitore. Il nostro perciò che oggi è molto importante. Perché abbiamo ade adem adem iniziare inizia. Quindi abbiamo guardato un tempo di stessi di lasciare un'obiettivi, quindi abbiamo guardato ogni cosa quasi non spazio. Quindi abbiamo abbiamo guardato un'obiettivi. Quindi abbiamo guardato un'obiettivi, abbiamo guardato da qui, abbiamo guardato sempre Konya Sporio da guardate. Alla prossima, di solare il corso più di Bacchina, o da Baixakşehir, Golovarici, inizialmente buono un attimo. Sondan sonra Galatasaray, Beşiktaj, Fenerbahçe, ono da var. O yüzden biz hedeflerimizi her zaman maçtan maça götürmemiz gerekiyor. Her zaman en iyisini yaparak ve yolda hiçbir şekilde eksik kalmadan istediğimiz her şeyi alarak yapmak istiyoruz.